vediamo un attimino qui la situa tutto a posto beh a non mi sembra che tutto a posto non mi sembra che bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono jovex04 e oggi ragazzi vi do i ben ritornati su radio or not il gioco della SWAT ve lo ricordate signori quel fantastico gioco realistico dove noi siamo la SWAT bene siamo ritornati su questo grandissimo gioco signori adesso io non dico niente altro e vi lascio la buona visione di questo video ok ok signori ci siamo ci siamo squadra squadra venite tutti con me la festa è andata male la SWAT risolve ovviamente vediamo un attimino qua quello che accade perché qua vedo che c'è una porta aperta non lo so non lo so io direi ragazzi quella porta aperta a me non mi ispira quindi scendiamo direttamente al party direi risolviamo noi la situazione andiamo andiamo squadra ci siete bravi che mi state seguendo allora 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 vediamo un attimino this way to geni parti va bene va bene allora siamo delicatamente qui vediamoci molto molto cauti allora secondo me ragazzi io trovo qualcuno direttamente qui eh ho questo dubbio quindi squadra venite con me fall in ok perfetto con calma signori è con calma bene sembra tutto tutto libero prima di andare di là facciamo un attimo un giro di qua bene 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 ispezione libera mi piace oh uno lì uno lì giù 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 dovete abbatterlo dovete abbatterlo andiamo andiamo move libero libero su 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 ragazzi mamma mia guardate qua la tv che abbiamo scassato parando mi sa abbiamo scassato la tv allora ah non mi sembra che tutto a posto non mi sembra che tutto a posto tu vai giù ah ah cosa volevi provare a fare ora vieni con noi in centrale caro mio e aspettiamo che arriva una bella ambulanza così ti rimettono in sesto ma poi stai un po al fresco allora abbiamo qui un bel giardino ma prima di andare nel giardino ragazzi voglio andare di qua ok iniziamo a dire un po di police in giro allora movimenti cauti e lenti perché non sappiamo mai quello che ci può essere dietro gli angoli appunto bene 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 ragazzi l'abbiamo fatto fuori niente vediamo un attimo ah no no non è morto ok ok per fortuna non lo so ragazzi vabbè sembra essere tutto libero squadra chi è che hanno visto io non so proprio la mia squadra chi ha visto ragazzi non ne ho la più minima idea va bene va bene squadra squadra insomma move and clear perché sembra essere tutto libero diamo un attimino vedo lì vedo lì vedo lì giù 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 se non sparo hanno ucciso ragazzi e niente hanno ucciso ok signori ci siamo ci hanno chiamato qui in un night club e guardate qua che casino cavolo 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 va bene va bene squadra ci siete dobbiamo intervenire noi non sappiamo che cosa sta accadendo però va bene entriamo forza 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 squadra muoversi muoversi tutto libero per il momento sembra essere tutto tutto libero cioè è successo un casino lo sospetto li sospetto li sospetto li ok fatto fuori fatto fuori bene vediamo se è cosciente o no sembra essere morto però noi per sicurezza ragazzi lo prendiamo comunque fire rally point entriamo qui libero 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 movimenti movimenti ragazzi è tutto libero allora premo qui per per aprire la porta che casino che guardate qua che cosa diavolo è successo ok questa si può aprire no ovviamente no ok andiamo avanti forza forza dobbiamo ovviamente trovare gli ostaggi perché ragazzi ci sono anche degli ostaggi quindi dobbiamo vedere un attivino apriamo la mappa qui ok va bene va bene tutto libero 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 no non è vero non è libero non è vero non è libero ok l'ho fatto fuori devo curarmi devo curarmi ragazzi mi curo ok così dovrei stare meglio mamma mia questo ragazzi a me sembra essere cosciente non ne sono sicuro del dubbio chi hanno visto squadra squadra che sta succedendo allora allora vediamo un attimino giù giù assolutamente giù adesso vai giù a terra forza ok squadra 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 serve copertura bene intanto che prendo il civile qui mi serve copertura squadra ho detto che mi serve copertura diavolo porca miseria dov'è la copertura squadra move in clear forza ok mamma mia bene prendo lei stia tranquilla signora che la portiamo poi al sicuro nel dubbio la dobbiamo un attimo legare per sicurezza allora c'è qualcun altro qui la situazione sembra essere molto molto male un altro coppa ragazzi mi sa che muoio non lo so dobbiamo stare molto molto attenti bene passo per di qua movimento pulito clean è tutto tutto ragazzi libero secondo me allora vediamo un attimino ho trovato la strada squadra venite 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 forza 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 stay on me bella questa musica mi piace chissà che cosa sarà successo ragazzi non lo so non lo so chi ha visto la mia squadra squadra no ragazzi questa a me questa situation non mi piace quando quando la mia squadra grida vuol dire che ha visto qualcuno secondo me bene mi sa che hanno trovato qualcuno della mia squadra eh sì mi sa mi sa di sì ragazzi eh bene siamo allerta allora dobbiamo rimanere sempre allerta lì abbiamo la zona vip andiamo nella zona vip vediamo un attimino quello che accade movimento pulito bene qui abbiamo una bella zona bar quello chi è con calma con calma non ci facciamo sentire giù giù ho detto giù ma hanno ammazzato non ci voglio credere c'è un colpo hanno tirato va bene ragazzi siamo arrivati qui alla conclusione di questo video il jovix ragazzi vi ringrazia grazie 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 davvero se siete arrivati qui fino alla fine del video ovviamente vi ricordo ragazzi di lasciare un bellissimo mi piace è ovviamente anche di iscriversi al mio canale e di lasciare anche un bellissimo commento se il video è stato di vostro gradimento va bene ragazzi noi ci vediamo bella grazie a tutti